Buon pomeriggio, benvenuti allo Stadio Olimpico di Serravalle per la partita Stamarino-Lecce, valida per la terza giornata di ritorno del campionato di prima divisione Girole A. Il Lecce scende in campo con il numero 1 Benazzi, 2 Vanin, 3 Legittimo, 4 Menusciai, 5 Di Maio, 6 Esposito, 7 Chirico, 8 Zappacosta, 9 Geda, 10 Bogliacino, 11 Pia. A disposizione dell'allenatore il signor Lerda con il numero 12 Gabriele, 13 Martinez, 14 Tomi, 15 Gherose, 16 Foti, 17 Vinicius e 18 Cevanton. Il San Marino scende in campo con il numero 1 Gianluca, 2 Vanin, 2 Carlo Pelagazzi, 3 Federico Magnini, 4 Alessandro Fogacci, 5 Francesco Lunardini, 6 Vittorio Ferrero, 7 Abbruglia, 8 Nicola Capellini, 9 Massimo Coda, 10 Davide Polecchi, 11 Francesco Cagiolla. A disposizione del tecnico il signor Leonardo Acori con il numero 12 Mattia Migani, 13 Luca Pigini, 14 Davide Ferrari, 15 Roberto Crivello, 16 Simone Calvano, 17 Emanuele Chianetti, 18 Edoardo Defendi. Ambito dell'incontro il signor Stefano D'Angelo di Asso di Viceno, assistenti Cristian De Franco di Udile, Alessio Tolto di Ponderone. Il San Raio is a! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.